Abbiamo detto più volte che senza norme di semplificazione, senza l'assunzione di personale a tempo determinato, i comuni non riusciranno a spendere le risorse del recovery plan entro il 2026. Questa prima norma sulla semplificazione, che si aggiunge a un'altra di qualche anno fa, ci permetterà sicuramente di accelerare i tempi di esecuzione delle opere pubbliche. Aspettiamo adesso un decreto sulle assunzioni del personale, soprattutto sulla semplificazione delle procedure di assunzione di personale, specializzato, professionale, a tempo determinato, il tempo necessario fino al 2026 per trasformare le idee degli enti locali in progetti e in opere pubbliche a servizio della nostra comunità. Così il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci Antonio De Caro, a margine della visita del vice ministro all'economia e alle finanze Laura Castelli, che ha incontrato poi i giornalisti nella sala giunta della provincia di Bari. Il decreto semplificazioni è alla base delle esigenze dei comuni per attuare i progetti e impegnare così le risorse del Recovery Fund, accorciare i tempi attraverso norme specifiche. Questo è in sintesi lo scopo della visita della vice ministra a Bari, proprio per fare il punto sui provvedimenti al vaglio del governo che hanno una ricaduta sugli enti locali. Questo processo di semplificazione è un atto dovuto nei confronti di un Paese che fino ad oggi è stato delle volte poco capace di utilizzare delle risorse. Non è il primo decreto semplificazioni che si fa negli ultimi anni. Di certo è necessario scriverlo come lo stiamo scrivendo per essere sicuri di poter accelerare quelle risorse straordinarie che sono venute a seguito di questa pandemia così che ci ha travolto tutti quanti e che ha bisogno di rimettere in piedi il Paese. Lo stiamo facendo chiaramente con una stretta collaborazione perché solo chi amministra può dire allo Stato centrale su alcuni passaggi amministrativi quali sono quelli necessari. La visita istituzionale a Bari della vice ministra Laura Castelli si è conclusa con l'incontro con i sindaci dell'area metropolitana.